con le parole di Anna Gianfredo rispetto all'importanza di mettere in azione i contenuti giuridici. Diamo adesso la parola a Don Gianluca Marchetti che è cancelliere della diocesi di Bergamo dove è anche direttore del servizio diocesano di tutela dei minori e che è membro del consiglio di presidenza del servizio nazionale di tutela dei minori e persone vulnerabili istituito dalla conferenza episcopale italiana e in questo ambito ha curato la predisposizione del sussidio buone prassi di prevenzione e tutela dei minori nella parrocchia e proprio per questo ci propone una relazione promuovere prevenzione fare rete per un cambio di cultura nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili buone prassi di ascolto e prevenzione negli ambienti ecclesiastici e gli do la parola e lo ringrazio per la sua disponibilità ad essere oggi qui con noi. Grazie, un saluto anche alle autorità accademiche, religiose, il vescovo, civili e militari. Linda, la dottoressa Chisoni ha introdotto benissimo, faccio mio poi tutte le riflessioni che sono state fatte anche da Anna, hai stimolato la mia, anche io sono un canonista, quindi abbiamo una malattia comune, un pregio vorrei dire, una virtù comune, quindi quando sentiamo argomenti che ci toccano come giuristi subito si mette un insieme di cose che è molto 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 interessante, hai aperto molte tematiche, anche Chiara però ci sono qui delle tematiche molto interessanti però avremo altre occasioni per approfondirle, non poco, ma al massimo durante il mio intervento qualcosa dirò. Il mio intervento vuole essere un intervento come a focus progressivi, è ovviamente un piccolo taglio, un piccolo assaggio di quello che sta succedendo nella Chiesa italiana ed è incentrato su buone prassi di natura soprattutto pastorale, è un progressivo, per far vedere abbiamo visto un quadro complessivo, criteri, indicazioni molto generali e ovviamente importanti, essenziali, abbiamo avuto il quadro in qualche modo giuridico, ma non solo direi anche molti stimoli, anche più che giuridici che ci sono stati dati, adesso potremmo vedere partendo dalle linee guida della conferenza episcopale italiana i passaggi ad una concretizzazione, è una tra le tante possibili, quella delle buone prassi concrete, solo per far vedere però come un cammino che abbiamo sentito e dei suoi principi si traduca nella concretezza della vita pastorale delle nostre comunità. Le linee guida 2019 ne abbiamo sentito parlare questo documento che non è una nuova rivelazione, cioè non è una nuova Bibbia, non è una... come se prima del 2019 non ci fosse niente in Italia. Nel mondo la Chiesa si prende cura dei minori e dei più piccoli da sempre. C'è una tradizione, perché anche qui c'è un po' il rischio della dimenticanza, ci si dimentica quanto il bene si è fatto di fronte poi a episodi, si tende molto a dimenticare. C'è una tradizione, c'è una ricchezza, non voglio ricordare le più recenti tradizioni salesiane, ma delle nostre parrocchie, delle nostre comunità, sostanzialmente che istituzioni che hanno fatto molto bene vengono improvvisamente dimenticate, ma se non c'erano certe congregazioni, certi istituti che si prendevano cura dei poveri, che si prendevano cura degli orfani, questi non avevano nessuno. Cioè queste cose si dimenticano, si legge con oggi, con lo sguardo di oggi e passato, dimenticando che se non ci fossero state congregazioni, non dico solo religiose, pensiamo anche nell'epoca medioeval, le confraterne, cioè c'è tutto un impegno della Chiesa che a volte si finisce per dimenticare. Quindi le linee guida non rappresentano l'improvviso dal niente, all'interno di un cammino che risponde anche certamente a delle esigenze, degli interrogativi. Delle linee guida che fanno, la conferenza episcopale italiana fa una scelta un po' particolare, va detto, propone delle linee guida con delle attuazioni, dei principi e delle attuazioni di questi principi. Ma difensamente da altre conferenze episcopali che hanno preferito produrre prontuari molto rigorosi, molto rigidi di azione, di comportamento, ma che corrispondono anche a mentalità diverse. Siamo nel mondo anglosassone che chiaramente è legato a una mentalità decisamente diversa. La conferenza episcopale italiana riflette anche una cultura come quella italiana che è diversa da questo punto di vista, da questa attenzione. Dall'altra non dimentichiamo che la realtà italiana è una realtà estremamente complessa. In Italia ci sono più di 223 diocesi, per esempio. Chiese grandi come la chiesa tedesca hanno una ventina di diocesi. Capite cosa voglia dire nell'organizzazione territoriale pensare questa realtà? E poi riflettetela poi in parallelo anche sulle istituzioni civili, perché poi la complessità del territorio italiano, delle culture che si incontrano e la ricchezza. Questo ha portato a una scelta molto particolare, che è quella di indicare dei principi fondamentali, come delle scelte sulle quali muoversi e poi dare delle concretizzazioni a questi principi. È come dare un cammino, un indirizzo, lasciando poi al tempo, alle situazioni e alle istituzioni che vengono organizzate, di cui parlerò, il come procedere, che è la scelta più efficace. Fare delle regole troppo puntigliose, che nessuno rispetta, non serve a niente, perché il giorno dopo sono già superate. Ci troviamo spesso di fronte anche a leggi che ci pongono lo stesso problema. Occorre la capacità di dare un indirizzo e di lasciare anche alle situazioni sedimentare le risposte migliori. Quali sono i principi? Ne cito solo alcuni. Ovviamente la tutela dei minori e la protezione. È una scelta. Uno può dire, vabbè, ma è una cosa talmente ovvia. Non è ovvia, perché anche l'istituzione ha una sonorabilità. Anche l'istituzione ha una sua dignità. Ci sono tanti anche valori in gioco. Non dobbiamo dimenticare, sembra che poi a slogan si fa la svelta a parlare. Poi entrano in gioco tante situazioni, tante cose. Scegliere comunque che la protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili, anche qui questa cosa che molto spesso ci sfugge, ma la Chiesa mette persone vulnerabili, che non è il concetto di equiparato al minore che ritroviamo semplicemente anche nell'ordinamento civile. La persona vulnerabile è un concetto anche, tra l'altro, molto difficile per noi giuristi. È un concetto che ci fa un po' venire la pelle d'oca, possiamo dire così, perché non si riusciamo bene com'è. Però è un concetto molto interessante, perché è da costruire anche in qualche modo, da interpretare. Una persona che stava in una situazione di fragilità, capite che ha uno sguardo diverso. Non è solo il minore di età, che è molto facile. Minore di 18 anni, minore di 16 anni, ma quando parli di persona vulnerabile, c'è uno spirito diverso qua. Anche qui come gli ordinamenti non possono sovrapporsi in modo così semplice, identificatorio, perché riflettono qualcosa di diverso. L'ordinamento canonico riflette una Chiesa, che non è alto nel senso che un'altra cosa è incarnata all'interno della società, ma rappresenta anche alto. Ecco perché riflette anche altre cose, altre terminologie e altre espressioni. Preferenza, appunto, protezione e tutela dei minori, l'ascolto, l'accoglienza, l'accompagnamento delle vittime. Io non insisto su questo tema, perché è stato inversato benissimo, per dire come è la chiave di lettura. Perché partendo da lì, puoi arrivare al resto. Se non tocchi con mano, in qualche modo, la sofferenza delle persone, alla fine noi possiamo fare anche le norme più, come dire, più stringenti, punitive, ma se non hai la percezione del male e questa solidarietà umana, chiamiamola così, questo essere di mente umano, tutto il resto non... Se non c'è quel cammino di conversione, direbbe Papa Francesco, ma possiamo comprenderlo. Cioè, se non tocchi con mano questa situazione, che è la base anche di ogni norma, se non c'è l'umano che è la base di ogni norma, la norma diventa semplicemente un'astrazione giuridica e poi viene superata e poi si tenta di evitarla. Devi essere convinto, cioè di avere fiducia. Io posso mettere tutti i nomi che vuoi, ma se non c'è fiducia, ognuno cercherà di imbrogliare l'altro e non c'è rapporto se non si basa sulla fiducia. Si parlava di questioni economiche, ma prima di ogni contratto c'è la fiducia, che poi il contratto dovrà in qualche modo dare una forma. Ancora, la formazione, candidati a ordine sacri, vita consacrata, e la formazione poi della corresponsabilizzazione comunitaria, formazione degli operatori pastorali. Ho citato solo questi tra i tanti, tra i nove principi che ci sono. Ognuno di questi poi ha delle concretizzazioni, ma per dirvi che la scelta fatta dalla conferenza episcopale italiana, cioè dei vescovi italiani, va esattamente su queste due priorità. Sono questi due i quadri chiari. L'ascolto, l'accoglienza, l'accompagnamento delle vittime, quindi l'attenzione ad ascoltare, e qui non ritorno perché ce lo siamo detti, ma la formazione diventa l'elemento decisivo, perché se non formi una cultura, una cultura, allora tutti gli altri sforzi finirebbero per essere inutili. La mera punizione dei reati non è sufficiente, evidentemente non è sufficiente. C'è una fragilità nella cultura della tutela delle persone più fragili, minori, che nasce dagli abusi di potere, che nasce da logiche, che poi che sono logiche profondamente umane, profondamente umane, sociali, che si trasformano poi in sistemi sociali oppressivi, quello che volete, che però è qua. Informare, formare. Formare le coscienze è la base. La scelta allora fatta è di un cammino molto più lento rispetto forse a quello di altre conferenze episcopali, meno rispondente a uno stile emergenziale che provoca generalmente, necessario a volte, ma anche dei danni. L'emergenza a livello giuridico comporta molte volte pasticci. Possiamo dire così, non è un'espressione giuridica, ma lo possiamo dire. Ci troviamo spesso, io lavoro anche nel tribunale, come produttore di giustizia, una specie di procuratore, potremmo dire, nel tribunale ecclesiastico, e sono situazioni molto difficili quando ci troviamo che, per esempio, il sistema canonico assume materia secolare senza una dovuta attenzione. Poi, a livello di emergenza, c'è prima la pressione. ci sta evidentemente un'opinione pubblica, ci sta una pressione alla quale rispondere è anche giusto, è anche doveroso, però, se non prendiamo in considerazione le radici culturali, diventa una risposta dell'immediato, poi ci si dimentica. Ma i minori, le persone fragili, chi ha subito, resta, è questo, le ferite degli abusi, come ama dire Anna Deodato, non vanno mai in prescrizione, e quindi ci resta sempre qualcosa ed è questo il lavoro sul quale si vuole anche camminare, senza dimenticare il resto. Gli strumenti operativi, tra le tante cose, che cosa è stato fatto, che scelta è stata fatta? Di creare degli strumenti operativi. La Chiesa italiana si è dotata di questi strumenti che sono un po' le gambe delle gambe, cioè responsabilizzare attraverso delle figure un lavoro sulle comunità ecclesiali attraverso appunto delle strutture. Il Servizio Nazionale Tutela Minori, il Servizio Regionale Tutela Minori, con un suo vesco, un coordinatore regionale, un'equip regionale, il referente diocesano, il servizio cesano, l'equip e il centro di ascolto. Poi vi riporto un pochettino i temi, però ve li do anche subito che così guardate. 16 servizi regionali Tutela Minori, 16 vescovi referenti, 16 coordinatori, 219 referenti diocesano, 75% un'equip di esperti dei servizi, 90 centri di ascolto. Perché vi dico questi dati? Perché in un anno e mezzo complici la pandemia, quindi voi provate a immaginare cosa ha significato per tutti essere fermi per molte attività, molte sono rimaste bloccate, però la Chiesa italiana, le comunità italiane si sono attrezzate così. Questi gruppi, queste realtà, non voglio dire tutti come Piacenza, non è vero, Piacenza abbiamo un ottimo servizio, non solo tutti come Piacenza, evidentemente, però ogni diocesi ha avuto questa risposta e i Vescovi sono stati veramente partecipi. Ora, creare questa tuttura a me ha colpito molto, una settimana fa c'è stata una riunione, eravamo a Roma, per la conferenza episcopale italiana in cui c'era un rapporto con i coordinatori regionali, i referenti regionali e quello che mi ha colpito è che qualcuno di questi poneva questa cosa molto semplice, che diverse regioni italiane, in diverse regioni italiane, l'autorità, l'autorità civile, per non dire anche quella giudiziaria, ha chiesto se potevano utilizzare i centri di ascolto e i referenti come in qualche modo presenza sul territorio, perché non c'è presenza sul territorio di un servizio sociale, non c'è presenza sul territorio di ascolto, perché qui si fa anche la svelta a non dimenticare una cosa molto semplice, che la grande maggioranza dei abusi sessuali, andiamo su questo tema, avvengono in famiglia, un ambito intraparentale difficilissimo, difficilissimo da far emergere. Io dico a volte noi e giustamente ci soffermiamo sui abusati che riescono coraggiosamente a parlare, però dimentichiamo che ci sono un mondo di vittime di cui nessuno parla o nessuno riesce a parlare e mi colpiva questa cosa per dire davvero come, ovviamente la nostra linea è quella di non interferire e poi lo ribadirò questa cosa su quelli che sono i servizi, però per dire quanto la collaborazione e la rete nel rispetto evidentemente del reciproco di competenze e non di salvazione può essere utile e importante perché in molti territori italiani non c'è quasi niente da questo punto di vista. Vi dicevo il compito fondamentale del referente di Ocesano e del servizio di Ocesano tutto il minore è soprattutto un elemento di formazione, lo vedete per quello che avviene nel concreto questa attività creare questa rete interna intra-ecclesiale e estra-ecclesiale intra-ecclesiale vuol dire anche creare collaborazione tra gli uffici pastorali che non è sempre facile perché come avviene ovunque è sempre molto difficile mettere d'accordo soprattutto in casa a volte è ancora più difficile che fuori casa questo capita ovunque però creare rete in modo che le iniziative le attività che vengono fatte abbiano in qualche modo una comune una comune visione una attenzione per questo su tutela di minori perché sono tante dalla catechesi alle attività per i più giovani alla liturgia sono tanti anche gli elementi ecclesiali e gli elementi ecclesiali per creare appunto occasioni come quella che stiamo vivendo oggi i centri anche di primo ascolto qui lo segnalo ve lo devo dire soltanto per dire due o tre cosette su questa cosa che è interessante è un'esigenza che abbiamo sentito che ha sentito la chiesa italiana e che nelle mie guida avevano soltanto accennato non tanto o solo per fare segnalazione per ascoltare c'è una componente certamente giuridica ma c'è molto di più allora anche qui togliamo un mito perché c'è un po' un pericolo a volte si dice la chiesa devi punire però al tempo stesso perché lo fai tu e non lo fanno gli altri allora io dico sempre ma lo dicono anche i vescovi è molto chiara la cosa se c'è un reato va denunciato tutto quello di cui noi stiamo parlando tanto più lo dico per anticipare la questione dei centri di ascolto non è sostitutivo non è concorrenziale non si sovrappone all'autorità dello Stato dove c'è un delitto non è che uno va al centro di ascolto e il centro di ascolto è perché sistemiamo le cose tra noi adesso perdonate il linguaggio non preciso però dobbiamo anche smitizzare questa cosa dirla chiara la chiesa lo ribadisce costantemente quando si dice di fare segnalazioni ad intra non si sta dicendo non denunciate ad entra ma è questo ascolto che anzi molte volte dove arriva qualcuno noi lo spingiamo addirittura questa è la linea è incoraggiato a dove viene perché qualcuno magari fa fatica a rivolgersi all'autorità giudiziaria non sempre è così semplice rivolgersi all'autorità giudiziaria non sempre è così semplice a volte dei traumi a volte ci sono dentro delle fratture delle rotture situazioni traumatiche che vanno anche gestite con attenzione per creare percorsi tutti fanno svelte di creare dei percorsi i percorsi sono anche costosi non semplici si può permettere di assumere persone e portare avanti un percorso come quello generato dagli abusi non è una cosa così semplice allora premesso questo che dunque l'attività di ascolto della Chiesa non si sovrappone su quella dello Stato e che ovunque c'è un delitto un crimine per la legge dello Stato va denunciato come dovrebbe essere denunciato dove la legge prevede dove non lo prevede ovviamente nessuno questo che stiamo facendo non è assolutamente sostitutivo dell'altra dell'altra attenzione e questo è importante perché altrimenti si rischia di pensare che la giustizia applicata dalla Chiesa sostituisse quasi un canale privilegiato no è una come dire una punizione ulteriore se può essere una banale espressione il prete che commette un reato verrà giudicato secondo la legge italiana per quello che compete e verrà anche per le sue responsabilità ecclesiali giudicato dal sistema canonico che ha altre prospettive e per quello che dico anche a volte l'idea di dire ma deve punirlo come lo Stato ma no lo Stato fa la sua punizione la Chiesa non è lo Stato le punizioni dello Stato la visione di giustizia della Chiesa è un'altra una giustizia per la redenzione dell'anima per la salvezza dell'anima che non vuol dire che si toglie l'altro capite? cioè noi chiediamo a un criminale di rispondere alla legge di punire e subire le sue punizioni se fosse un prete questo criminale oltre a quello chiediamo un rinconamento canonico a altre finalità che non si sovrappongono alle altre ma creano un ulteriore passo ed è importante questa volta c'è molta confusione anche nell'opinione pubblica su queste cose e si crea appunto anche dei conflitti allora il centro di primo scolto ha questa funzione di ascoltare di accogliere ma è questa l'idea di fondo principale non è tanto il caso specifico da dove comunque anche per le segnalazioni stiamo valutando stiamo preparando ci sono dei protocolli ma che non sono enormi evidentemente non pensate che c'è il mare di segnalazioni che arriva sono molte volte questioni relative a un passato lontano andati in prescrizioni per esempio per la legge dello Stato non più perseguibili non più quindi magari riguardano addirittura a noi capita io passo un po' tutta Italia capitano casi riguardanti sacerdoti morti neanche più verificabili magari sono abusi vissuti come abusi in qualche modo psicologici forti ma ci sono però questa è la scelta della Chiesa è come dire un credito di ascolto comunque perché è lo stile della Chiesa se fossi lo Stato direi no non mi interessa perché esce da questa cosa non posso rincorrere le coscienze delle persone devo rimanere a criteri più oggettivi e per quello che mi piace anche che abbiate la percezione di questo sforzo che fa la Chiesa di essere un ascolto aperto a 360 gradi un credito ovviamente di fiducia appunto lo chiamo disarmato non preoccupato compassionevole lo servizio nazionale ha fatto dei sussidi delle attenzioni che dicono un po' questa cosa questa attività di formazione che arriva anche in generale mi limito semplicemente a indicare qualcosa sulle buone prassi ma qualche qualche minuto semplicemente per dire le buone prassi che sono uno di questi sussidi sono alcune indicazioni che cosa vuol dire le buone prassi le buone prassi vuol dire aiutare le nostre comunità nel concreto noi partiamo un pochettino così a tappeto è una cosa che stiamo facendo a tappeto in tutta Italia a livello diocesano quindi della chiesa un po' più diocesana ma a livello delle singole comunità quindi delle singole parrocche gli oratori gruppi catechisti gruppi sportivi poi provate a immaginare questo lavoro esteso su tutta l'età con fatiche con sforzo però per farvi capire come si traducono poi tutte le parole che diciamo cosa diventano queste cose diventano dei cammini nel quale concretamente i referenti diocesani piuttosto che l'equip diocesane piuttosto che il servizio nazionale a livello generale cosa fanno incontriamo le persone con che sono lì che sono le persone che vivono in quella parrocchia in quell'oratorio in quell'associazione in quel gruppo in quel movimento e ragioniamo insieme perché sai la parola corresponsalità è una parola magica sinodalità sono tutte parole magiche poi a un certo punto la sinodalità è allora ci vediamo a fare qualcosa insieme no perdonate l'espressione però poi alla fine i discorsi sono belli sempre questa è una cosa molto concreta cosa facciamo insieme concretamente costruiamo all'interno della comunità o rivediamo all'interno della comunità i cammini che sono in atto che attività facciamo facciamo attività del CRE per esempio centro di creativo estivo l'attività del campeggio risponde ad alcuni principi la rileggiamo insieme insieme agli operatori che agiscono quali sono i principi sui quali ci muoviamo centralità del minore dove tutta la comunità si senta compartecipe quando noi rivediamo un cammino può sembrare una banalità ma poi sono queste piccole cose che fanno mentalità i discorsi vanno i libri sono pubblicati e ho avuto le persone a ragionare in un certo modo nella mia realtà con un obiettivo e lo dico qui molto importante attenzione noi siamo consapevoli che formare nel piccolo ragionare secondo questi principi nel piccolo aiuta la società perché il problema degli abusi in ambito ecclesiale certamente è un sorridievo ma rispetto a quello che sta succedendo nella società vorremmo che questo lavoro che facciamo diventasse qualcosa che spinge l'intera società a migliorare a partire da quelli che si dicono cristiani da quelli che sono gli operatori all'interno della nostra comunità da quelli che sono le persone che lavorano lì allora questo aiuta a migliorare la società centralità del minore patto educativo con i genitori il patto educativo sono un'espressione del tempo che furono ma resta una cosa importante coinvolgere non è facile perché si fa la svelta dire coinvolgere i genitori ma oggi la famiglia vive lo sapete meglio di me le tensioni separazioni conflitti genitoriali e la delega per molte ragioni delega il parco delega il professore delega la scuola è fortissima questi atteggiamenti quindi è difficile creare corresponsabilità però è un lavoro su cui ci si muove informarli fa riferente a loro ancora il valore educativo di ciascuna figura pastorale venendo qui stamattina sono passato dalla chiesa del collegio alberoni e c'erano due signori che pulivano la chiesa allora a voi sembra banale ma voi pensate anche le persone che tengono puliti gli ambienti e che avevano coscienza di quanto sia importante anche quel ruolo perché uno non ci pensa mai quanto è importante anche il ruolo di chi crea un ambiente pulito ordinato ma questo fa una casa accogliente non sono solo le parole è che la casa lo sia concretamente accogliente lavorare anche su questo di uno scegliere con cura gli operatori pastorali è importante non vi dico poi il resto noi in questi lavori lavoriamo poi applicando sulle persone qui solo per dirvi comunque poi di ogni argomento lo approfondiamo facciamo giocare riflettere insieme su questi elementi semplicemente dico buone prassi come un abitus quindi l'abitudine virtuosa a pensare progettare realizzare verificare insieme in modo corresponsabile tenendo presente finalità obiettive strumenti di attività la concreta situazione perché non è lo stesso essere nell'oratorio o nella parrocchia piacentina qua che essere a Tarapani ovvero una decina di giorni fa non è lo stesso ma non perché sia meglio o peggio perché se non conosci la realtà concreta di territorio le tue indicazioni finiscono per essere qualcosa di vago non conosci come si creatizza le norme e le indicazioni che sono anche rispetto delle norme civili noi insistiamo molto su queste anche questa attenzione alla salutarità dei luoghi che qui una banalità però entriamo in queste polemiche però i protocolli di sicurezza anche che sono stati indicati dal governo che sono stati applicati io credo che le chiese le abbiano applicate in modo anche molto rigoroso ci siamo ritrovati anche questa attenzione sulla pandemia alcune attenzioni sono state applicate molto attentamente e c'è stata anche una vorrei dire forse a volte anche un'intransigenza anche da parte dei vescovi ma opportunamente sul rispetto perché è un segno anche di attenzione è doveroso però capite che bisogna anche fare entrare una mentalità aiutarla e questo è un modo molto concreto poi per per far capire cosa vuol dire la collaborazione nel senso anche di corresponsabilità sociale le norme indicazioni e le persone l'attenzione va soprattutto le persone che sono in modo particolare più piccoli e più facili perché le persone sono al centro grazie 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 a tutti grazie a tutti